Ciao Internet, buongiorno, buon giovedì. Come sempre il giovedì è il giorno delle analisi fatte insieme a Startup Italia. La cronaca sfortunatamente ogni tanto ci dà qualche spunto su cui iniziare e ieri la cronaca ce ne dà uno importante, l'attacco terroristico a Londra. Un attacco terroristico che ovviamente, come spesso accade, ha vibrato molto all'interno della piattaforma Twitter. Come sempre succede con le breaking news, ad alto appeal. Quanto ha vibrato? Beh, su un'ontologia fatta da una serie di parole chiave, principalmente Londra, Pray for London, Westminster, Pray for London come hashtag, London Attack, Parliament e Westminster Attack. In 24 ore sono stati 2 milioni e 600 mila e rotti i contenuti che abbiamo rinvenuto. Questi contenuti in realtà legati principalmente a una breaking news lanciata per prima, almeno quella che ha fatto trending, da Le Globe, quindi da un quotidiano francese. Gli hashtag di riferimento sono quasi tutti quelli che abbiamo trovato all'interno delle delle parole chiave, aggiungendo We are not afraid, non abbiamo paura. Una insieme a Pray for la location, uno degli hashtag classici in caso di attacco terroristico. La distribuzione, beh, ovviamente United Kingdom, quindi Inghilterra per primo e Stati Uniti d'America per secondo, ma forse è ora di usare un po' più di cinismo e andare a vedere come la piattaforma ha interpretato questi dati. Diciamo che i dati questa volta danno uno spaccato piuttosto preciso delle abitudini di visualizzazione degli utenti della piattaforma. Ma è giovedì, quindi questo video si ferma in questo momento e potete vederne la continuazione insieme a tutta l'analisi dei dati direttamente su Startup Italia al link che trovate nella descrizione. Grazie mille e come sempre grazie mille per avermi ascoltato e... e state parati!